Buonasera Matteo, chiaramente partiamo da lì perché tu sei sempre molto sereno, tranquillo, pacato, però nell'analizzare con lucidità questa partita è ovvio che quei due interventi hanno avuto un peso specifico e importante. Più difficile il tiro da sotterra di Benedotto o l'altro? Sì, tanti sono contenti di aver contribuito alla vittoria della squadra perché era fondamentale all'agirizzo e penso quella è la seconda, la seconda, la fuori. 9 punti a 7 giornate dalla fine, aver ripreso i 9 punti in questo weekend, chiaramente uno spartiaccio vista la forza dell'invito, questa risposta che avete dato, quanto vi lascio? Sì, stiamo trovando ad affrontare una squadra in salute molto forte, che sta bene, che sta facendo, disputando un gran giro di ritorno, per cui era fondamentale oggi tornare alla vittoria dopo la partita di Carrara che fa parte del percorso dove anche con un pezzo di sfortuna tra l'espulsione, l'autogol e il secondo gol, la deviazione un po' fortuita, può capitare di, a volte no, sempre girare bene e oggi era importante tornare alla vittoria, lo abbiamo fatto.